I tre comandamenti Allora è il primo essere onesti, onesti con se stessi e con gli altri, specialmente con il mistero che faccio io. Il secondo essere liberi, liberi dentro, liberi vuol dire cercare sempre di trovare delle chiavi di interpretazione diverse e dall'altra di non censurare mai. E il terzo cercare di condire le bugie a se stessi e agli altri, mi sembrano già tre buoni comandamenti questi. Grazie per la visione!